L'effetto Brexit inizia a farsi sentire sulle importazioni del Regno Unito. L'inflazione oltremanica accelera all'1% annuale a settembre, attestandosi a livello più alto da due anni a questa parte. Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, sono cresciuti i prezzi dei prodotti di abbigliamento e della benzina, mentre quelli del gas si sono stabilizzati. Un balzo che in mattinata ha trascinato le borse europee e tutte in rialzo, e la sterlina torna sopra la quotazione di 1,20 nei confronti del dollaro dopo il crollo del 7 ottobre. Ad agosto l'inflazione era allo 0,6% annuale e gli analisti si aspettavano un aumento dello 0,9%. Tuttavia l'Ufficio Nazionale di Statistica si è mantenuto prudente sull'effetto che la Brexit potrà avere sui prezzi. Secondo gli analisti si farà sentire ancora di più nei prossimi mesi. Venerdì scorso il governatore della Bank of England, Mark Kearney, aveva preannunciato che l'inflazione in Gran Bretagna è destinata a salire a causa dell'aumento dei prezzi per i prodotti di importazione.